Fabrizio Corona e Fedez una collaborazione che fa discutere. Da tempo i due personaggi si sono alleati per promuovere il lavoro del rapper, ottenendo vantaggi reciproci. L'ex re dei paparazzi ha deciso di parlare pubblicamente su Federico Lucia nel podcast Gurulandia, rilasciando dichiarazioni sorprendenti. Corona ha difeso a spada tratta Fedez, anticipando uno scoop sul rapper. Tuttavia, la credibilità dell'ex paparazzo è stata messa in discussione quando ha rivelato un presunto amore segreto di Fedez per un'altra donna, nonostante il matrimonio con Chiara Ferragni. Questa notizia ha sollevato dubbi sulla veridicità delle parole di Corona, che sembra cercare scuse per i comportamenti controversi di Fedez. Non solo difende il rapper, ma anche Chiara Ferragni, mostrando un lato delicato che contrasta con la sua solita tendenza all'offesa. Corona dipinge un quadro di Fedez come un ingenuo che si è innamorato di un'altra donna, mentre consola se stesso con altre giovani donne, ignorando la gravidanza di Chiara. Il tutto mentre Corona sottolinea che il nome del cane di Fedez, Silvio, è solo una coincidenza. Le giustificazioni di Fedez diventano sempre più intricate, con implicazioni su tradimenti e problemi psicologici causati dalla vita con Chiara. Tuttavia, le parole di Corona sollevano dubbi sulla veridicità di queste scuse, portando a interrogarsi sulle reali motivazioni dietro i comportamenti del rapper. La collaborazione tra Fabrizio Corona e Fedez continua a far parlare con il pubblico che si chiede quanto durerà.